Domenica 15 dicembre al Teatro Pietro Aretino di Arezzo va in scena la compagnia dei contaminati con lo spettacolo a corpo libero. Che tipo di serata sarà? Gli spettacoli dei contaminati sono sempre contaminati con qualcosa. Abbiamo fatto la contaminazione teatro e cuscina, teatro e musica. Quest'anno ci siamo contaminati con il corpo, quindi parleremo di varie parti del corpo, da quelle più conosciute a quelle più nascoste a quelle, fra virgolette, considerate più oscene. Però sempre in maniera ironica e divertente. Perché ci chiamiamo i contaminati? Perché la compagnia è composta da giovani e adulti diversamente abili e non. Quindi è un tipo di laboratorio di teatro integrato, quindi per non creare ghetti ma per stare proprio insieme e provare a vivere nella diversità. Anche perché poi ognuno di noi è diversamente abile in qualche cosa. Il gruppo è molto affiatato, è composto da 27 persone che tutte quante recitano, tutte quante saranno sul palco. E ci sarà anche un coinvolgimento del pubblico quest'anno. L'iniziativa che avrà inizio alle 17.30 è promossa da Autobahn Teatro ed è stata resa possibile grazie al contributo di Arezzo Multiservizi con il patrocinio del Comune. Vi aspettiamo numerosi e l'ingresso sarà gratuito. Alla prossima Alla prossima